Non c'è un momento esatto in cui ho iniziato a pensare a me come light designer ma semplicemente perché ho iniziato a fare teatro già dai tempi del liceo con una compagnia che avevamo fondato insieme a degli amici e quindi è stato quasi un accompagnamento di vita quello di lavorare alle luci fin da quando avevo 18 anni poi è diventata una professione ma la sento una cosa che è da sempre con me. Il disegno luci nei spettacoli che creo è diverso il ruolo a seconda di tipo di spettacolo facciamo naturalmente che sia danza contemporanea prosa musica o altro naturalmente nella danza contemporanea che stiamo facendo adesso ci sono più possibilità di sperimentazione e quindi puoi sbizzarrirti con disegni e luci completamente diversi da spettacolo a spettacolo restando sempre però in sinergia con gli altri settori video, scena, danzatori. Quello che mi ha colpito in questo progetto è che ognuno di noi si è quasi dimenticato delle proprie origini vorrei riscoprirle però senza rimarcare le differenze ma cercando dei punti di unione in questo caso che migliorano fondamentalmente le persone.